Ragazze e ragazzi, ciao a tutti quanti, l'Espertiri vi parla perché stavolta stavo andando a pranzare, a quanto pare vengo sempre interrotto quando sto per fare qualcos'altro. Volevo andare a pranzo quando scopro che è appena uscito il trailer della Torre Nera, o la Torre Oscura, The Dark Tower, il film del 2017 con Idris Elba e Matthew McConaughey ispirato a una serie di libri, quindi non uno, ma una serie di libri di Stephen King. La Torre Oscura The Tower, The Man in Black and the Concierge, the just dreams. There's no real change. I don't know the world out there. I know, Chris. Who are you up? No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.